Mi chiedi puttana Ciao Michele Pierfrancesco 5 minuti e 6 scena Arrivo Francesco complimenti per Sarriva Grazie Ma lo sai che ti facevo più alto? In televisione sembriamo tutti più alti Carlo Conti è meglio? Ma d'affanculo Buongiorno Pierfrancesco Chi cazzo sei? Mamma mia! 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 Dove sono? Che cazzo siete? Un qualche indizio per te Facciamo video sul web Siamo di Napoli Forse ci conosci Siamo i The Jagal Ma no! Chi? Ma perché? Oh, i Jagal Lost in Google Che ingenui Abbiamo fatto anche un film ultimamente Non è scelto tutta Italia 280 sale Non sarà il suo film Perché siete lì? Perché? Partecipazione passiva Bello Intere generazioni costrette a guardare il festival di Sanremo Senza avere la minima possibilità di esprimersi Mentre su qualcosa arrivano persone come Gabriel Garco O Belen Rodriguez Ecco perché siamo qui Per riprenderci il nostro posto nella storia Per presentare Sanremo al posto tuo Che cosa? Gli effetti di Gomorra? Come? Gli effetti di Gomorra? Ma no, no, no Sino a casa? No, no, no Bebaci capisimo Forse, vedete? Qua non mi ha fatto quattro Capisco il film Ma gli effetti di Gomorra E come pensate di decidere? Cagli, capite Se non devi dire una cosa così Ma quattro Ti sostituiremo con quello di noi Che ti somiglia di più Che cazzo dici? Bello Alto Muscoloso Bella voce Fru Ehi Ciao Non funzionerà mai Lui è molto più basso di me Sì, ma in televisione sembriamo tutti più alti Oh cazzo, è vero Ok ragazzi, prepariamolo Va bene, va bene, va bene Mettiamo che ce la fate Mettiamo che riuscirete a salire su quel palco Che riuscirete a fregare la sorveglianza A ingannare lo sguardo attento di Ornella Vanoni Ma una volta saliti sul palco sarete in Mondovisione Qual è il vostro scopo? Che cosa direte di tanto importante al mondo con la mia faccia? Qual è il vostro messaggio? Gni gni Che cosa? Gni gni Ma non può dire niente Vabbè però fa ridere, no? Gni gni Ma non significa niente Non significa niente Voi avete armato tutta questa scena Tutto questo casino Per questa strunz... Oh mio Dio Frudi l'ha battuta Gni 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 Qui ti guardi Sanremo Ok ragazzi andiamo Siete dei pazzi Non funzionerà Non ci riuscirete mai Nessuno riesce a fottere la Rai Nessuno frega i tornelli Rai Dalle testi Sì Dei spasito? C'è quel video che stiamo tutte e tre Che denunciamo una canzone Perché la cantamma Perché sti tormentone Ma come è possibile Che non ti hai visto Dei spasito O Sud America Se hanno visto Dei spasito Scusa ma Ma tu che se non ti hai in internet Ma secondo me Non ti ne manco lo telefono Ma fatti una promozione Ma che ce l'ho Vieni tu Ok ragazzi ci siamo Ok ragazzi ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Arrivate le vinte Ragazzi ragazzi Dalla pizza a Favino Gliel'ho portata io giù A Favino E come siamo Ci vedi le donne in mano Raga Ah che c'è C'è D'accordo Anche quando facevano le prove Figli di puttana Anche meno aggressivo Sono contenta Siamo al festival di Sanremo Siamo su Raiduino Non sono io quello Non sono io Poi che saranno dei Nini Nini Tutto il tempo Non vuol dire un cazzo Nini Ma sei tu O sei fru Non posso dirlo Non posso dirlo C'è un messaggio Non so qualcosa Posso dirle Non è Sì Questa sì Per Francesco Per Francesco ci vuole dire Nini Grazie a tutti Bravissimi Nini Ciao a tutti Nini Ciao Nini Ciao Ciao Nini Ciao fru Non sono io Un altro applauso per Nina Grazie Ciao ragazzi Ciao Michelle Ciao fru Io ho lavorato con Ronconi Che figura di merda Dall'orcazza di Sanremo Nini Nini Grazie Nini Grazie Cosa bisogna fare? Ma maestro non si Non era Hai detto Nini Hai detto Nini Ho detto Nini No Maestro non si può fare No No perché cambia completamente il senso della canzone Mi leggi tu in 15 secondi Un'altra categoria Non vuol dire niente Eccolo Grazie Fru 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 Ma che ci vuole Ma che ci vuole Io dovrei essere incazzato con voi, ma devo ammettere che avete fatto un ottimo lavoro. Sembrinato per presentare Sanremo. Grazie, frum. Io non sono io, io sono io, non l'avrei mai potuto presentare Sanremo. Io faccio schifo. È vero, frum fa schifo. Ma se tu non sei famiglia, e non sei frum, allora... Chi ha presentato il Festival di Sanremo? L'unico in grado di farlo... Maestro... Gni-gni. Oddio... È bellissimo.